chi moriva era morto e il lavoro continuava testimonianza di giovanni allineo detto gianotte nato a san michele di cervasca classe 1895 contadino mio padre si è sposato due volte e sarebbe stato padre di 16 9 della prima donna e 7 della seconda della prima donna ne sono morti 8 su 9 sono morti tutti da piccoli della seconda donna io sono il più giovane avevo tre sorelle e gli altri morti di terra avevamo cinque giornate di bosco di castagneto nella stalla una vacca in più avevamo l'osteria della fame ne abbiamo fatta tante volte avessimo avuto un pezzo di pane l'avremmo mangiato mangiavamo patate pane di meliga pan de bracheta per dire pane scadente pane di farina di gran turco un pane mica buono troppo asciutto più o meno tutti si viveva così con poco a scuola il mio maestro magnette aveva un bastoncino a quattro spigoli e picchiava sulle orecchie una paura cramento quando sentivo a suonare la campana della scuola tremavo come una foglia appena ho avuto tredici anni allora giù dai masuè giù in pianura a tagliare il grano ne avrò fatte 20 campagne del grano partivamo a san pietro il 29 giugno tutta la banda una squadra di otto andavamo sulla piazza di cavaller maggiore lì c'erano sempre 100 200 uomini tutti con la cappellina e falcetto non la falce perché era ancora tutto a più va cioè con il grano sui colmi del terreno arato sui colmi tra un solco e l'altro arrivavano i masuè con i birrocci noi si contrattava uniti tutti otto della squadra o niente il lavoro si lavorava da crepare dalle cinque del mattino alle otto di sera da quando il sole spuntava a quando il sole si nascondeva le cascine erano di 50 60 giornate il padrone metteva uno dei suoi di punta che tirasse che ci trascinasse a mezzogiorno quello spariva e ne veniva un altro fresco attirare talin il più duro della mia squadra lo tallonava quello messo lì dal padrone gli gridava va va se no ti taglio le gambe dai dai era come una gara il padrone rideva soddisfatto a vederci affannati cinque pasti al giorno colazione alle sette insalata pranzo alle 11 insalata merenda a mezzogiorno insalata e la grossa merenda alle quattro una fetta di salame e un pezzo di pane otto fette di salame e otto pezzi di pane già preparati per tutta la squadra non uno di più cena alla sera un piatto di minestra da bere vino di clinto e di americana che mandava grandi arree e ci toccava correre con il culo per aria tutte le sere avevamo l'infiammazione in mezzo alle chiappe un male che ci faceva camminare con le gambe larghe strade asfaltate allora non ce n'erano erano tutte strade bianche di polvere nel fazzoletto da naso mettevamo due o tre manciate di quella polvere andavamo al fosso ci lavavamo il culo ci asciugavamo un po e poi giù giù la polvere in mezzo alle chiappe come se fosse borotalco e l'indomani stavamo benissimo ma ogni sera era la stessa storia che il signore mi possa far perdere gli occhi che ne ho cinque di famiglia né se non dico il vero dopo cavaller maggiore andavamo a fossano da martina lì da martina abbiamo mangiato tante di quelle mosche nella pasta asciutta la cuoca era la madre vecchia un anno proprio a centallo ne sono morti tre a fare la campagna del grano io e miciu deparse prendevamo già a bota ossia a contratto un tanto per il taglio del grano dell'intera cascina e le cascine erano piccole si tagliava già con la falce il grano era già in piano un giorno trattiamo cinque giornate a bota non si scherzava si doveva lavorare tutto il giorno a tagliare e poi la notte a legare i piccoli fasci di spighe segati dai metitori unendo questi fasci si ottengono i covoni cerchiamo in piazza due garzoni incominciamo ma dopo cinque o sei ore saranno state le undici uno dei nostri garzoni il più giovane si sente male cade lungo e disteso tira calci fa la schiuma alla bocca e quasi muore un po di acqua sulla faccia poi il padrone del ciabot lo accompagna alla stazione lo mette sul treno e che se ne torni a casa a bernazzo arriva il cognato del padrone un uomo grosso a darci una mano lavora tre o quattro ore poi cade fulminato la faccia tutta nera come un cappello nera come una scarpa morto io grido chiamo soccorso arrivano con un birroccio il birroccio parte con il morto corre corre attraverso i campi ma non c'è rimedio l'indomani sento la campana che suona a morto e dico a micio micio un altro chi moriva era morto non se ne parlava più e il lavoro continuava ma quando parliamo della guerra io ho tre guerre da raccontare a contarla in fretta sono andato da permanente nel ventunesimo artiglieria da campagna con michel de cicu vincenzo de magnette bepi e altri mio fratello trumlin era in america del nord san francisco di california io ero di terza categoria 22 giorni a piacenza poi mi trasferiscono al 63esimo fanteria salerno la divento l'attendente del maggiore comandante ma un brutto giorno mi fanno la visita medica mi vestono subito per il fronte io sto piangendo quando arriva il maggiore cosa hai combinato mi dice ti avevo detto che mia assenza non dovevi lasciarti comandare da nessuno non dovevi passare la visita medica adesso non posso più fermarti devi andare al fronte però il maggiore mi insegna bene metti i cigari in un bicchiere d'acqua fatti furbo fatti venire il cardiopalma raggiungo monfalcone poi il monte sei busi un affare quanti morti la terra della trincea era rossa come le tegole argillosa avevamo sempre la faccia sporca vado due volte all'assalto uno spavento così gli austriaci erano a pochi metri l'aiutante maggiore ci dice coraggio che a luna si va all'assalto c'è il caffè e poi c'è l'assalto ma dio signore dopo la prima golata il caffè non va più giù sentiamo già boom è l'italia che apre il fuoco il monte sei busi che diventa una grande fiammata i tedeschi urlano urrà urrà buttano i razzi e si vede un ago per terra noi stessi fuori della trincea facciamo i morti poi il razzo si spegne e avanziamo di due metri i reticolati mi imprigionano la giacca ho le mani che sanguinano come una capra questa è la guerra della fanteria era tremendo andare all'assalto siamo già tutti morti ecco cosa pensavamo in quei momenti piangevamo solo i più anziani come matè della bibbia non si disperavano tanto loro erano già più stagionati più scaltri a noi il cuore saltava allora ho incominciato a chiedere visita mangiavo un sigaro e bevevo un bicchiere d'acqua è così che ho ottenuto sei mesi di convalescenza ma dopo un mese e mezzo che ero a casa sono venuti i carabinieri a cercarmi ho dovuto raggiungere salerno là il mio maggiore mi ha di nuovo voluto come attendente mi ha fatto dichiarare inabile al servizio al fronte accompagnavo i suoi due bambini a spasso tenevo la casa pulita servivo come il maggiore usciva lei mi chiamava il maggiore era vecchio madama mi diceva allinio comandi signora dammi il vaso lei era sempre a letto io voltavo la faccia dall'altra lei pisciava oh era una bella donna giovane e ero stupido un asino allinio comandi signora portami il caffè a letto ma un brutto giorno un mio paesano notu del campelu mi dice già not tutti i riformati devono passare una visita medica c'è il manifesto mi trasferiscono negli alpini a dronero dove comanda tutto il colonnello gattone da dronero dobbiamo partire per il fronte allora nel cortile della caserma gattone ci fa il discorso incomincia a gridare alpini andate al fronte a battervi a salvare la patria salta fuori uno di saluzzo ci sono sempre le teste matte e lo interrompe gattone tu stai a casa gattone se vieni con me in guerra io ti faccio la pelle ti ammazzo gattone da lontano com'è arriva alla seconda fila vuole mandare tutti sotto processo ma poi uno si spaventa e fa la spia denuncia quello di saluzzo ma chissà dove sarà finito e li hanno fatte a gattone da dronero raggiungiamo caporetto e serpenizza e poi il rombon sono con la diciottesima compagnia sul rombon i tedeschi sono a dieci metri loro ci danno il cognac e noi diamo le pagnotte a loro gridano italiano buono non sparare vengono nella nostra trincea assaggiano il loro cognac per dimostrarci che non è avvelenato parlano siamo amici per la pelle parlano come parliamo noi adesso si fanno capire sono stufi anche loro dicono appetit ma dieci minuti appresso a questo incontro salta tutto per aria è la guerra ho già detto che ho cinque figli io per primo stessi secco come un chiodo se non dico la verità parlavamo tranquilli poi all'improvviso ognuno scappava al proprio posto di nuovo delle botte da magnin il magnin è il calderaio avanti a chi ne ammazzava di più prima avevamo parlato a bocca a bocca voi prut prut voi pane pagnocca e noi ya ya sul monte stol mi hanno preso prigioniero mi hanno messo in rango in colonna noi e gli ufficiali gli ufficiali piangevano come bambini dicevano oh ci manderanno tutti sotto processo abbiamo perduto nevicava mentre camminavamo i pastrani gelati facevano crack crack i napoletani avevano i piedi gelati piangevano forte mamma mia gridavano siamo tutti perduti un mestolo di rape al giorno oh madonna i tedeschi cercavano gli urulog ci facevano vedere un pezzetto di pane nero e ci proponevano il cambio io avevo il mio longin ben nascosto attraversando l'austria le donne dai balconi urlavano italiani cadorna piange piange ha perduto tutti i suoi soldati arriviamo a matausen lì ne hanno già cremati tanti ogni mattina tolgono i morti dalle baracche e li portano i forni ormai siamo tutti morti pensiamo un mestolo di rape al giorno come bestie poi 3800 ci mandano in rumania ci caricano su una tradotta cavalli 8 uomini 40 per fare i nostri bisogni ci aiutiamo uno con l'altro facciamo la scaletta c'è un finestrino su in alto si mette il culo fuori e avanti nel nuovo campo in rumania facciamo una gran fame i tedeschi pelano le patate buttano le bucce nella latrina allora noi italiani per la madonna andiamo a recuperare quelle bucce sporche di merda le laviamo le mangiamo allora i tedeschi non le buttano più le bucce ma le offrono le vendono a noi adesso fanno la pelata lunga così una manciata di bucce è una razione che riempie il cappello costa zuei mark ossia due marchi le bucce le facciamo seccare sulla stufa poi neanche le risole neanche le bignette sono buone così ma se io avessi un tedesco qui vicino io gli tolgo il sangue io lo brucio vivo c'è un tedesco vecchio un bravo uomo lui non mangia pur di rimediare qualche soldo da mandare alla moglie chiede 60 marchi di una pagnotta di pane nero noi la compriamo in 12 abbiamo 20 qualità di bilance le fabbrichiamo noi di legno ogni briciola importante se questo tedesco vecchio è un bravo uomo gli altri 14 sono invece perfidi quando ci portano a lavorare nel bosco noi mangiamo l'erba come le capre e i tedeschi perfidi ci picchiano sulla schiena col fucile il tedesco vecchio invece ci lascia mangiare l'erba a volontà torniamo nelle baracche gonfi come barilotti se un prigioniero scappa ma lo riprendono allora ci radunano tutti ad assistere alla punizione l'interprete spiega scappano caput lo mettono nudo il prigioniero poi un caporale impestato lo picchia con il erbo di bue è come se lo vedessi incomincia dalle gambe poi sui coglioni poi sul torace poi sulla faccia lo riduce nero come un cappello ogni tanto l'interprete mette in piedi il prigioniero poi riprende sta affilate così fino a quando il prigioniero è morto mangiaris uno di mignolo fa una smorfia mentre stanno ammazzandone uno dei nostri di saluzzo un tedesco gli salta addosso lo prende a schiaffi l'interprete conclude sempre così se domani ne scappa un altro alles caput una notte arrivano i francesi a liberarci tutti i tedeschi del campo sono scappati è rimasto soltanto il vecchio buono e lì sulla porta del campo che ci guarda uscire tanti che passiamo lui ci bacia le mani prendiamo a saltare attraverso la romania mangiamo cavoli mele capre tutti i diavoli siamo in otto c'è culin ghisulf cichin de magnette in una casa una donna ci dice aleman futi futi ci fa vedere la sua bambina che i tedeschi hanno violentato 200 chilometri a piedi e arriviamo a giorgio i francesi che ci amministrano ci danno un caffè speciale pasta asciutta tutto è a posto ma arrivano gli ufficiali italiani sti italiani de sgorbi egoisti rubano le nostre relazioni il caffè diventa cattivo come una merda lo zucchero lo regalano tutto alle puttane allora noi cominciamo a dire che vogliamo tornare subito in italia e i francesi a dirci se andate in italia andate ai pesci il mare è tutto minato prendiamo il danubio con dei barconi raggiungiamo costanza poi in treno arriviamo a costantinopoli ci imbarcano ma verso lo stretto dei tardanelli la nave si rompe e si ferma nel mezzo del mare nel buio vediamo un fanale e poi tante luci è un bastimento francese bello con tutte le tendine agli oblò si accosta e con il megafono i marinai francesi ci dicono italiani avete bisogno di soccorso noi tutti a piangere come bambini un'ora poi sentiamo a tirare su le nostre ancore e si riparte e di nuovo noi a piangere due giorni di viaggio ma poi a gallipoli siamo di nuovo fermi cosa farci era un arnese da poco un ferrovecchio una baracca infine arriviamo a bari c'è il vaiolo sulla nostra nave restiamo a largo poi sbarchiamo a barletta lì incontro pin dociula che fa il magazziniere mi porta all'osteria dove bevo del vino nero grosso che fa 17 18 gradi sto mangiando la pasta asciutta quando mi sento un colpo sulla schiena e cado lungo e disteso poi come un po mi riprendo sento una fanfara che suona ho 42 di febbre mi portano dal dottore militare che mi dice è la nostra malattia tifo esantematico nella testa mi portano all'ospedale dopo 52 giorni mi sento guarito ma una sera alle 6 di nascosto mangio una cavetta di pasta asciutta sono debole con le budella fini così a mezzanotte sono morto e mi portano nella sala mortuaria ma al mattino alle 6 risuscito vedo dei lampadari bianchi vedo un morto qui e un morto là mi metto a urlare infermiere infermiere arriva uno vestito di bianco mi riporta nel mio letto